Alessandro Dioni, 17 anni, è diventato un eroe quando ha salvato un uomo in arresto cardiaco, rianimandolo con il difibrillatore. È accaduto lo scorso 7 luglio durante una festa nella parrocchia San Marco ad Arezzo. Con sangue freddo e le manovre apprese a scuola a liceo Petrarca ha salvato la vita ad un 52enne. A colpire di questa storia che ha fatto il Giro d'Italia è stata la sua prontezza di riflessi e il suo sangue freddo, qualità straordinaria in un ragazzo così giovane. Per questo il Consiglio regionale della Toscana gli ha conferito un riconoscimento importante, le ali del Pegaso. Alessandro ha la testa sulle spalle e nonostante il clamore continua a vivere la sua vita e costruire il suo futuro con le idee ben chiare. Sicuramente non dico di essere più responsabile o nulla ma alla fine a parte il boom giornalistico che c'è stato non mi ha cambiato molto, a parte la prima settimana che magari qualcuno mi fermava e faceva eh complimenti se quel ragazzo che ha salvato Marcello però se no non è cambiato molto diciamo. Cosa vuoi fare da grande? Io vorrei entrare in esercito italiano. A consegnare il riconoscimento il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Abbiamo voluto mandare un messaggio con questo premio, un messaggio che non bisogna voltarsi dall'altra parte, che bisogna mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare le vite umane. Questo è quello che ha fatto Alessandro, un defibrillatore, la possibilità di saperlo usare, quindi la formazione, anche questa è molto importante, che ha permesso di salvare una vita umana. Allora noi bisogna costruire tutti insieme le condizioni perché oggi, ancora oggi, i defibrillatori non ci sono in tutti i nostri territori, perché siano uno strumento che salva la vita e soprattutto costruire le condizioni per formare più ragazze e più ragazzi a essere consapevoli e saper utilizzare il defibrillatore come strumento per salvare le vite umane.